Sì, sto facendo il mio lavoro, tutti i giorni, tutti i giorni, sto arrivando al mio meglio. Io sempre vado ad allenare bene per fare il mio lavoro il meglio che posso. Hai chiesto scusa al portiere, lo hai colpito in un punto un poco delicato. Sì, sì, era un bello tiro, però facciamo una bella partita. Arriviamo tre, quattro volte nella porta e facciamo un gol. Questo è un punto importante. Mantieni questo trofeo in mano, sicuramente meriti tutti i complimenti che gli sono stati fatti sia a te che a Bizzarri che è stato molto bravo sui calci di rigore. Immagino che anche in allenamento tirate molti rigori per tenervi pronti quando serve e Bizzarri è uno dei portieri che viene considerato un portiere molto abile nel parare i calci di rigore e questa sera lo ha dimostrato. Sì, lui è molto bravo, però lui si allena molto bene, sempre busca di andare un po' meglio e lui ha parato due palla, questo è un punto importante per noi e la nostra squadra ha fatto un buon lavoro in questi rigori e ho fatto un bello rigore. Senti, ma hai capito così, l'hai fatto come Neymar, hai copiato da lui? No, no, l'ho fatto dopo, però non l'ho copiato da Neymar. Neymar ha copiato Evandro? Signori, questa è la notizia, Neymar ha copiato da Evandro. No, no, l'ho fatto dopo, però non l'ho copiato da lui.